E' una gravissima emergenza domani di nuovo nella nostra città, avvengono di nuovo le stesse cose dopo pochi anni negli stessi punti, vuol dire che non è più il caso, è un sistema che lavora così. Se andate a vedere esprimono 7 miliardi per la groga e il terzo valido fanno i cantieri sopra la ferrovia, smontano la frana, passano la ferrovia e si interrompe il treno, è la colpa di chi è del TAR, è la colpa di chi è del loro, perciò un'analisi matematica del loro software, diamo una leggera inconcluenza, devono andare e dire immediatamente, è la, è, sono messi, capisci al test che lo stanno a tutte le fette.